buongiorno a tutti siamo alla casa della chiave di milano siamo per duplicare una chiave della nuova fiat 500 e prima la fresiamo con la bellissima ninja il taglio perfetto il taglio perfetto il taglio perfetto il taglio perfetto la macchina della chiave ninja vuole adesso andiamo a vedere se effettivamente funziona tutto bene ok ecco la bellissima 500 adesso andiamo a provare il grezzo se gira bene benissimo adesso proviamo l'accensione se gira bene ecco qua vediamo il quadro perfetto adesso andiamo a provare il grezzo se gira bene ecco la